Buonasera, sono Federico Ratti, titolare dello studio Ponti Ratti di Monza, uno studio di 30 persone di commercialisti. Devo dire che qualche mese fa ho iniziato ad utilizzare Tueppi e a parte la facilità del prodotto che è in dubbia, mi è servito per riorganizzare completamente l'ufficio e renderlo molto più lean, come dicono loro, ed è stato veramente un grandissimo vantaggio, per cui grazie al team di Tueppi perché veramente abbiamo ingranato una marcia più alta e siamo pronti per le sfide che la nostra professione ci sta riservando. Grazie.